Ciao a tutti ragazzi, io sono Colidan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi finalmente, finalmente perché non vi nascondo l'interesse e la curiosità che avevo quando l'ho sentito annunciare, vi presento in uscita breve Star Wars Unlimited, primo gioco di carte collezionabili come Magic, Mutant Chronicles, tutti i giochi di un tempo, in ambientazione Star Wars, gioco della Fantasy Flight, a cura di Fantasy Flight Games, ed edizione italiana portata da Asmod Italia, che io ovviamente colgo l'occasione per ringraziare immensamente per il set di base fornito che vedete qui davanti, più questi sei booster pack, grazie veramente di cuore, ed è un gioco di carte facilissimo, è il gioco forse di carte più facile che ho visto fino ad oggi, e infatti l'età è dai 12 anni in su. Qui ci potete mettere veramente chiunque a giocare al tavolo e sono sicuro che si divertirà. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Star Wars Unlimited è un gioco di carte collezionabili, quindi è il classico gioco alla Magic, dove comprerete un set di base, che a breve vi faremo vedere con unboxing, dove dentro ci sono già due mazzi pronti, 50 uno e 50 l'altro, perché i mazzi devono sempre essere composti da 50 carte, più due carte in più, che sono l'eroe, perché ogni mazzo deve avere il proprio eroe, e la base da difendere, sia l'attaccante che il difensore, quindi tutti e due i giocatori devono avere 50 carte più l'eroe alla base. In questo mazzo c'è un set completo, aprite e giocate con eroe Luke Skywalker, e dall'altra parte Anakin Darth Vader, quindi siamo in piena epoca all'inizio della ribellione, episodio 5 per farvi capire, l'impero colpisce ancora, ma ovviamente il gioco spazia in tutti quanti i capitoli e le varie ambientazioni storiche di battaglie di Star Wars, perché abbiamo anche dei set dove qui davanti, vedete, ad esempio, cambia poi la copertina ma il booster pack è casuale quello che trovate all'interno, ce ne sono alcuni con la principessa Leia, Chewbacca, o il mio personaggio preferito di Star Wars di sempre, il grande ammiraglio Tron, lo bacio, e in ogni booster pack ci sono 16 carte, che sono sempre un leader, una base, esattamente 9 carte comuni, 3 carte non comuni, e dentro una rara o leggendaria, quindi all'interno di ogni pacchetto, mi rivene in mente appunto anche Magic, all'interno di ogni pacchetto c'è sempre una carta rara, sempre, o potrebbe essere anche leggendaria, quindi comunque all'interno di ciascuno troverete magari carte con più o meno valore, però comunque una carta leggendaria, scusate, una carta rara ci sarà sempre. Ricordo che Star Wars Unlimited è un gioco di carte collezionabili, quindi comunque prevede una certa spesa per riuscire ad avere tutte le carte, in più inizierà anche quel discorso un po' alla Magic o alla Mutant Chronicles di scambio carte per le fiere, magari in gruppi, in forum, canali Discord, oppure anche direttamente Facebook, e sta già nascendo una nutrita comunità, anche perché il gioco è molto tattico, e ora vi do ovviamente una velocissima infarinatura, però per quanto è un bel gioco tattico è veloce, è immediato, e le regole sono veramente, veramente molto semplici. Ci sono vari tipi di carte, ma la maggior parte, quelle più importanti, sono personaggi, ovviamente il vostro personaggio è quello che avete scelto, truppe, che possono essere truppe di terra o flotte, perché in questo gioco è stupendo, si combatte sia in terra che nello spazio, le truppe dello spazio non possono attaccare quelle di terra e viceversa, quindi ci sarà da una parte una battaglia delle flotte e da una parte una battaglia delle truppe. Carte evento, che potrete giocare, attivare, o carte miglioria, quindi equipaggiamenti vari, magari per le truppe imperiali, che ne so, dei tipi di blaster più forti, oppure, non lo so, dare la spada laser al personaggio di Darth Vader, così che faccia più danno. Quando si vuole mettere in campo una carta, la carta ha sempre segnato in alta a sinistra il suo costo, quindi bisogna pagare totte risorse e per metterla in gioco, quindi niente di diverso da qualsiasi altro gioco di carte competitivo collezionabile. Se ne paga il costo, si mette la carta in campo e alternativamente ogni giocatore fa un'azione. Gioco una carta io, gioca una carta lui. Attacco con una carta io, gioca una carta lui. Quindi le azioni che si possono fare sono una ogni volta. Il turno finisce quando il giocatore corrente dice passo e l'altro giocatore dice passo. Al momento che finisce tutto quanto il turno, si rivanno dal pool, dal proprio mazzo, si vanno a pescare due carte, si tengono in mano, non c'è un limite alle carte che si possono tenere in mano, anche 50. Di queste due carte se ne può giocare una come risorsa, da mettere giù e le risorse si spendono, come vi ho detto, per attivare tutto quanto, oppure si può decidere di tenersela in mano tutte e due. Ciascun evento, ovviamente avrà una descrizione di quello che fa, ciascuna truppa di terra o di aria ha dello spazio, ha un costo, come vi ho detto, da un livello di forza. In rosso l'attacco, in blu i punti ferita. Quindi se io uso magari uno stormtrooper che ha un livello di attacco di 3 e un punto ferita, attacca magari delle truppe della ribellione che hanno 2 di attacco e 2 di difesa, lo stormtrooper ucciderà, perché sorpasso ovviamente li farebbe abbastanza ferite con un suo valore di attacco di 3, ma allo stesso tempo, visto che c'è sempre un contrattacco, le truppe della ribellione uccideranno lo stormtrooper. Quindi attaccandosi si ammazzeranno tutti e due. Nel caso le ferite non bastassero a uccidere la truppa o la carta, ci sono dei segnalini ferita, nel set base che vi consiglio di comprare, anche perché non potete iniziare con i booster, questo lo dovete avere per forza, andrete a mettere i segnalini dei punti ferita per ricordarci com'è. Ciascuna base ha 8 punti ferita e lo scopo del gioco è distruggere la base avversaria, nient'altro. Quindi potete anche semplicemente attaccare direttamente la base avversaria senza fermargli le truppe, però attenzione, perché le truppe d'aria possano attaccarvi la base, le truppe di terra vi possono attaccare alla base. Quindi sarà bene cercare di fermarglile e sminuire la forza di attacco del vostro avversario, perché poi magari ve lo ritroverete che farà un attacco da 30 danni direttamente alla vostra base e avrete perso la partita. Quindi il vostro scopo è distruggere la base avversaria, difendere la vostra, ma soprattutto, cosa importante, fermare le truppe. Si può attaccare come volete, quindi potete attaccare con una truppa direttamente la base, non c'è limite. Oppure, se il tizio, il vostro avversario, ha in campo delle carte con la dicitura sentinella, quelle le dovete distruggere per forza, prima dovete eliminarle tutte, prima di distruggere la base, almeno che sulla vostra carta non ci sia scritto sabotatore, e a quel punto, con sabotatore, dovrete, potrete attaccare direttamente la base, anche passando sopra le sentinelle. Quindi ha delle regole molto semplici, che sono riassunte in 20 pagine di regolamento, che poi da 20 diventano 3, ve lo assicuro, perché è tutto riassunto, e è veramente un gioco molto 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 interessante. In conclusione, Star Wars Unlimited è un gioco che è molto interessante, veloce, ribadisco perché, giustamente deve essere chiaro, è un gioco di carte collezionabili, posso giocare anche semplicemente col set di base, potrei fare decine di partite, però è normale che le carte che sono qui dentro sono quelle, vorrai espanderti un po', mettere qualche veicolo in più, qualche miglioria, qualche truppa, poi, per non contare che a parte scintilla di ribellione, usciranno anche altri set in futuro, magari con altre ambientazioni, guerre dei cloni ed altro, quindi dovrai per forza comprarti, non tanto un set base, quanto dei booster pack, per appunto andare a rinvigorire il tuo mazzo, e soprattutto, se sarai un giocatore di torneo, che andrà in qualche club a giocare, dovrai per forza, non potrai vincere un torneo con le carte che ci sono qui, ma dovrai farti un mazzo tuo. Quindi è veramente un gioco veloce, molto 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 interessante, ragazzi, 12 anni o più, ci potete mettere anche un ragazzino, un bambino a giocare, e capirà le regole, tanto sono facili, i disegni sulle carte sono molto interessanti, sono veramente carini, ci hanno un po' quello stile anime e manga, però ci stanno bene, sono fatti bene, quindi sono belli colorati, appariscenti, e vanno subito all'occhio, insomma, sono interessanti, si fanno notare. Io ancora una volta ringrazio Asmod Italia per la copia infornita, se volete ordinarlo, come sempre, primo link in descrizione, in soviimpressione, dal nostro negozio sponsor, Gioco Libriera Semola, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito e lo trovate finito, oppure questo prodotto non è in lista, mandate una mail al supporto, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, Gioco Libriera Semola, farai il possibile per trovarvelo, se l'ha finito, o anche se non ce l'ha in lista e fuori catalogo, se è reperibile, ve lo ordina comunque, usate il codice discount Coridan7, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiore ai 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia e isole comprese, Gioco Libriera Semola, si attesta sempre uno dei migliori servizi che ci sono, sia fisici che online, per i giochi da tavolo e non soltanto, ragazzi, il gioco è interessante, provatelo e fatemi sapere, ciao alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao alla prossima!